La sindaca di Battipaglia, a seguito di segnalazione dell'unità veterinaria dell'ASL, ha emesso un'ordinanza nella quale incarica la polizia locale di indagare sugli avvelenamenti di numerosi gatti avvenuti in diversi punti del territorio. Allo stesso tempo è stata disposta l'installazione di apposite tabelle con la scritta Attenzione, possibile presenza di esche avvelenate. Il provvedimento, inoltre, dispone la bonifica delle località interessate dall'abbandono di esche o bocconi, che saranno analizzati dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.